Non mi sono mosso, soltanto nello spirito. Trovo continuamente novità dentro e fuori di me. Sembro tranquillo, ogni tanto increspature create dall'ansia che a sua volta è frutto di compassione per qualcuno. Devo riflettere e scrutare con animo più desto le vicende che mi accompagnano in questo periodo, come del resto dovrei essere sempre più attento nel cogliere il significato di tutto. Omnia, si dice in latino per dire il tutto, e ha un suono più accogliente e abbraccia ogni cosa visibile e invisibile. Tutto ha un significato diverso da quello che noi diamo al momento, e forse superficialmente in modo affrettato e immaturo. Dio è rilevabile in ogni cosa e accadimento, soltanto che occorre imbocare la strada giusta per incontrarlo. Bisogna avere la testa libera da distrazioni e metterla nel cuore, nello spirito, perché ogni cosa conduce così allo spirituale, all'invisibile. A maggior importanza una foglia, una piccola foglia che cade, che si stacca come un nulla dal ramo ormai spoglio che tutto il resto del mondo. E non sono foglie anche le nostre parole? E foglie a volte rumorose? E i nostri pensieri? Fumo. Quante foglie al mio passare sono cadute? Eppure non si muove foglia che Dio non voglia. L'ho pensato però tra queste foglie che finiscono di essere irrequiete. Mi insegnano a essere quieto soltanto in Lui. Per terra, sorridenti per terra, sull'albero non sorridevano, ridevano un po' scioccamente. Ora sorridono d'amore al suolo. Grazie.